vai mauro quindi soltanto tutto in una volta la faccio questa faccio io guardate ma guardate mesi siete al Sicily Movie finalisti nella categoria Around Sicily quanta gioia c'è e quanto lavoro c'è stato dietro alla vostra opera? il lavoro è tanto perché l'ho fatto io io scherzo, l'abbiamo fatto tutte insieme però c'è un gran lavoro, ci sono tre anni di viaggio on the road prima in camper e adesso in Fiat 1100 quindi abbiamo racchiuso tutti i nostri incontri tutti i nostri sorrisi in un piccolo video adesso siete finalisti alla Valle dei Templi qual è l'emozione che provate? è una grande soddisfazione soprattutto dopo tre anni di lavoro è un po' una conclamazione di quello che abbiamo fatto fino adesso è diciamo un punto di partenza di quello che vogliamo raccontare della nostra Sicilia voi avete raccontato appunto la Sicilia quanto è importante avere un video del genere che racconti il territorio anche per la promozione del territorio stesso? soprattutto i nostri video si basano proprio su questo sugli incontri, sul promuovere ogni singolo comune perché ogni comune siciliana ha la sua storia e le sue bellezze e vogliamo farle conoscere tutte la promozione del territorio stesso grazie a tutti